E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cristian e siete su CryptoItac. Oggi video dedicato esclusivamente a Ethereum dove vedremo come la criptovaluta si sta muovendo nel medio-lungo termine. Intanto, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo la gentilezza di iscrivermi al mio canale e di attivare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti quanti i video che io porterò quotidianamente sul mondo delle criptovalute in generale. Un'altra cosa, vi chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like perché è l'unico modo che io ho per capire che i miei contenuti vi piacciono e che volete che continui a portarne dei nuovi. Allora, iniziamo subito con il time frame giornaliero per quanto riguarda Ethereum. Vediamo un attimo la situazione e come si sta comportando. Allora, analizzando il grafico possiamo notare che Ethereum una volta che entra in fase di bear market, come ha fatto anche nel 2018, entra in un triangolo. Una volta entrato in questo triangolo, come possiamo vedere, l'andamento è sempre stato ribassista finché non tocchiamo il supporto, la base di supporto. Qui abbiamo avuto i nostri rimbalzi e abbiamo rotto il triangolo intorno ad aprile del 2019 e da qui poi ci siamo liberati, anche se poi abbiamo fatto un double bottom, come potete vedere qui e qui. La stessa cosa si sta delineando anche per quanto riguarda il nostro bear market attuale, quindi quello che è iniziato a novembre del 2021 e che ad oggi ancora non è terminato, anche se abbiamo avuto un bellissimo rimbalzo bullish da questo punto di vista nell'ultimo mese, quindi da inizio anno del 2023, ma ancora non siamo fuori da questo bear market e da questo triangolo. Quindi cosa ci possiamo aspettare analizzando la cosa? Possiamo vedere che anche qui a febbraio aveva avuto una bellissima spike, guardiamo, del 64%, qui abbiamo avuto la nostra spike del 47%. Cosa ha fatto a marzo? A marzo ha ritracciato. Allora, marzo per il mondo delle criptovalute, ma in generale diciamo per i mercati, è un mese di correzione, quindi questo statisticamente è così. Quindi potrebbe potenzialmente anche in questo caso ritracciare il prezzo. Non è detto che tocchi la base che ha toccato più volte, io non mi aspetto che tocchi la base, ma un ritracciamento è potenzialmente possibile. Per poi, guardate un attimo, ad aprile, quindi a inizio aprile, ha avuto la sua ulteriore spike, quindi abbiamo fatto una U, un ulteriore spike, zoomiamo, sino a poi rompere finalmente questo triangolo di bear market. Eccolo qui. Questo qui è marzo, poi ad aprile la spike, dopodiché abbiamo consolidato sulla trendline discendente, e poi alla fine l'abbiamo rotta, e una volta rotta abbiamo avuto la nostra bella rialzata di 124 punti percentuali. Quindi un'ottima spike rialzista. Vediamo un attimo qui cosa potrebbe fare. Quindi potenzialmente, ve lo disegno, il prezzo potrebbe fare una cosa del genere, quindi a marzo scendere, per poi arrivare ad aprile, avere la nostra spike, andarci poco poco sopra, e poi ripartire. Ovviamente i miei non sono né consigli finanziari né di trading, sono soltanto le mie semplici opinioni, che voglio condividere con voi, a mo' di chiacchierata fra amici. Quindi, che cosa... Allora, scusate, qui ho fatto una freccia che non devo fare. Ecco qua, scusate, di nuovo. Torniamo qui. Quindi, in linea di massima, stiamo sotto questa trendline. Questa trendline sta portando ad un triangolo, con un supporto che abbiamo già ritestato due volte, è una resistenza che abbiamo ritestato tre volte, è l'ultima proprio in questo momento. Non siamo riusciti a romperla, quindi siamo tornati giù. Questo triangolo finirà entro i primissimi di maggio, quindi in un modo o nell'altro andrà rotto questo triangolo. A mio avviso lo romperà verso l'alto, seguendo appunto lo schema che ha avuto nel precedente bear market, questo qui. Quindi, entro i primi di maggio, sicuramente usciremo da questo triangolo, vedremo se è verso l'alto o verso il basso. Spostandoci invece su un time frame mensile, vi faccio vedere un altro grafico, che ho sempre tracciato io, di parallele che sta seguendo Ethereum, dove queste due parallele, che sono questa gialla e questa rossa sotto, sono le due parallele del supporto più forte che ha Ethereum per quanto riguarda i suoi bear market. Infatti, sia nel 2016 ha avuto una pesca e da qui è iniziata la sua bull run, sia per quanto riguarda marzo del 2020, che ha avuto la sua pesca e è arrivato anche all'interno della parte rossa del canale, quindi nel canale più basso, quello rosso, ha avuto la sua pesca e da qui è ripartita la sua bull run. Guardate adesso dove stiamo consolidando, stiamo esattamente all'interno, andiamo sul settimanale, siamo esattamente all'interno del canale rosso, abbiamo consolidato nostra spike, siamo rimasti all'interno comunque di questo canale di accumulazione, che è questo qua sopra giallo. Ora potenzialmente, quindi seguendo il grafico precedente, cosa potremmo fare? Potremmo avere un rialzo in questa fase qui, poi una piccola discesa, che ci può portare il prezzo intorno ai 1400 dollari, se non al minimo 1373, per poi risalire ad aprile e avere la nostra fase rialzista. In questo qui, allora vi porto anche il grafico a un'ora, per vedere proprio il time frame più basso. Allora, tracciamo Fibonacci, eccolo qui, quindi... Ecco qua. Quindi tracciando Fibonacci, possiamo notare che Ethereum sta lottando con lo 0,38 di Fibonacci, e lo sta mantenendo. Qualora dovesse continuare a mantenere lo 0,38 di Fibonacci, si tratterebbe di una bull flag, quindi potremmo avere potenzialmente uno spike rialzista, che ci può portare a fare dei massimi superiori ai 1700 dollari. Se dovessimo invece perdere lo 0,38 di Fibonacci, dovessimo regarci allo 0,5 o allo 0,61.8, è una fase più di consolidazione, quindi mi aspetto che se dovesse scendere, come vi avevo detto per quanto riguarda i grafici precedenti, marzo sarebbe un periodo di lateralizzazione in questa parte qui del canale rosso, per poi avere un aprile molto più bullish e rialzista. Quindi mi fermo qui per quanto riguarda Ethereum, queste qua sono le mie considerazioni, fatemi sapere la vostra, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Un abbraccio a tutti e buon weekend. Ciao ciao!